So che è difficile crederlo, ma la politica internazionale è veramente importante. Sia che si parli di energia, di dazi, di migrazione, di sicurezza, la verità è che ognuna di queste questioni che tocca profondamente la vita dei cittadini ha a che fare con la politica internazionale ed è per questo che è fondamentale investire sulla politica estera e la politica estera di questo paese, la politica estera italiana, che sia attraverso la diplomazia, che sia attraverso la cooperazione allo sviluppo, che sia attraverso la difesa, ma che sia anche attraverso le analisi, la comprensione, i documenti, i dibattiti, le discussioni ed è questo il motivo fondamentale per cui esistono istituti come i nostri. I nostri istituti, l'OIAI e l'ISPI, insieme da 135 anni si occupano di politica estera, di politica internazionale e cercano di suscitare attenzione, dibattito, approfondimenti e riflessione su questi temi. Con questo nuovo prodotto, con questa iniziativa vogliamo farlo assieme, assieme come in molti paesi si fa la politica estera, partiti antagonistici, antagonisti trovano punti di contatto su temi importanti, noi non siamo certo partiti e non siamo certo antagonisti, ma come i due istituti che operano in Italia, i due principali istituti, viviamo di un amichevole confronto sulla qualità delle nostre iniziative, non sui temi importanti. Sui temi importanti, l'importanza della politica estera e della politica internazionale, lavoreremo assieme, lavoreremo assieme con un prodotto, un prodotto che inizia oggi, che vi invitiamo a leggere, vi invitiamo a commentare, a criticare, ogni vostro spunto sarà per noi prezioso.